Continua senza sosta la lotta allo spaccio e dal commercio di stupefacenti ai danni delle giovani generazioni da parte delle forze dell'ordine. Ad individuare e cogliere sul fatto un noto spacciatore della zona sono stati i militari della stazione dei carabinieri di Vallefoglia, coordinati dal comandante, il maresciallo maggiore, Giabani, il quale durante un'operazione svolta proprio in una zona conosciuta e molto frequentata dai giovani per questi motivi. Un operaio 33enne residente in zona già noto da tempo alle forze dell'ordine sempre per reati inerenti alla droga è stato arrestato in flagranza di reato, colto mentre con un atteggiamento sospetto si aggirava proprio nella zona tenuta sotto occhio dai carabinieri probabilmente alla ricerca dei clienti. Il fiuto dei militari ci ha visto giusto perché nella conseguente perquisizione personale sono stati trovati addosso all'uomo due panetti di hashish per un peso di oltre 200 grammi. Anche nella sua abitazione i militari della stazione di Vallefoglia hanno trovato altri 5 grammi sempre della stessa sostanza, oltre a un bilancino di precisione e tutto l'occorrente per il taglio ed il confezionamento delle dosi.